Bentornati, bentornati sul canale, bentornati, vince l'Inter, vince l'Inter, nessun pesce caprile come qualcuno aveva preconizzato, nessun pesce caprile per l'Inter, 2-0 in gol in apertura di match Federico Di Marco, invece poi nel finale. A chiudere il campeon Alexis Sanchez, gol meritati sia per l'Azzurro che per il Cileno. E allora l'Inter dopo due settimane di polemiche per lo più sterili, dopo due settimane di tante chiacchiere, dopo due settimane di troppe chiacchiere, tra il caso Acerbi e il Derby, se lo perdi, poi magari te ne penti, tutta sta roba qua. 2-0, un Empoli devo dire che arriva la quarta sconfitta di fila, resta palesemente ancora invischiato nella lotta per non retrocedere, ma che ha venduto cara la pelle. È stato un po' un match sulla falsariga di quello del Genua, poi il Genua trova il gol, l'Empoli non l'ha trovato, ma c'è stata tipica gara di rientro da una sosta. Sono sempre complicate le gare di rientro alle soste, non tanto per l'aspetto fisico, perché devo dire che i nazionali, quasi tutti i nazionali, hanno tenuto bene, quanto sotto il profilo del riattaccare la spina. E infatti chi non è partito si è visto, chi è tornato già domenica scorsa si è visto. Il match, l'Inter è partita subito fortissimo, asserragliando la trequarti campo toscana e trovando immediatamente il gol con una splendida combinazione tra bastone e Di Marco. Di Marco che si era portato al limite dell'area avversaria, addirittura sul versante destro è andata a chiudere incrociando col sinistro di controbalzo. Un gol dal coefficiente di difficoltà davvero elevato. Poi c'è stato il ritorno dell'Empoli, non un ritorno, perché comunque l'Empoli è sempre giocato, è sempre rimasto sulla stessa lunghezza d'onda. È stato un Empoli che non ha smesso di giocare, questo si può dire. Un Empoli che anche con coraggio ha provato ad andare a pizzicare l'Inter nelle zone un po' più scoperte, tra le linee, alle spalle delle mezzali, a creare l'equivoco tra Braccetto e Quinto. Non a caso, giocando con i due dietro un'unica punta, che però non è una punta statica, neanche una punta che viene a fare gioco, ha provato Nicola a impensierire l'area di Rordia Nerazzurra con gli inserimenti di Surgoschi, di Cambiaghi e anche a turno dei due centrocampisti. Più bastoni di Marin, anche se forse alla fine della fiera è il tiro più pericoloso della partita per l'Empoli. E' stato proprio uno di Marin, del Romeno, da fuori parato comunque bene da Udero, tiro forte, centrale, sotto la traversa, quindi dalla distanza ha saputo leggere bene. Un Udero, peraltro, molto 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 sicuro, anche con i piedi non ha fatto rimpiangere Sommer. E' sicuramente come secondo portiere un lusso, e ve lo dice uno che non ha mai stimato particolarmente Udero negli anni della Sampdoria. Però devo riconoscere che come vice si sta dimostrando un ottimo vice. E non è mai facile trovare ottimi vice, l'abbiamo visto nel corso degli anni, e soprattutto serve tenuta mentale. Quella che Udero, qualvolta è stato chiamato in causa, ha sempre dimostrato e confermato. A mio modo di vero, il miglior in campo, bastoni, quello dell'Inter, Alessandro. Partita veramente pregevole. Non a caso quando è uscito negli ultimi minuti per far posto, eravamo ancora sull'1-0, per far posto a Carlos Augusto, e invece ha un po' a un posto... No, no, non è uscito al posto di Carlos Augusto, lo stavo dicendo, una scempiogine. Al posto di Denfris con Carlos Augusto, che poi è scalato all'indietro per prendere il posto di bastoni, ma gli allo tattico, perché già entrava al posto di Di Marco. Eravamo ancora sull'1-0, partita ancora in bilico, quindi si è cautelato, abbassando Carlos Augusto, Inzaghi, alzando Darmian, però a sinistra, e invece a destra è entrata appunto Denzel Denfris, Denzel Denfris che entra e piazza l'assist, perché quando le maglie e gli avversari si allargano, la fisicità di Denfris in Italia, soprattutto risulta devastante. Avanzata, palla in mezzo, precisa, Thuram non ci arriva, ci arriva Sanchez, da pochi metri, e insacca il 2-0. Ero in mezzo, tante occasioni per l'Inter, contro un Empoli, ripeto, un Empoli positivo. Non stiamo raccontando una partita contro una squadra che è venuta a fare spari in partner, a rendevole, no no, l'Empoli è stato un avversario che se l'è giocata, se l'è giocata pure bene con le proprie carte, però nonostante questo l'Inter ha creato tantissimo, già nel primo tempo aveva creato tantissimo, ma ancora prima dell'1-0, che è arrivato al sesto minuto, ancora prima aveva creato una palla goal su un cross messo proprio nei primissimi minuti, con la palla che era rimasta lì, alla fine spazzata. Il palo di Bastoni, ma nella ripresa, ragazzi, Pavard stava facendo un euro goal, prima gliel'ha salvata Thuram, l'era bellissima, proprio destro di mezzo esterno sul secondo palo a incrociare, poi il miracolo di Beresischi, Lautaro ha tirato debolmente, insomma, adesso nemmeno ricordo tutte, ma ci sono state veramente barella con lo specchio totalmente aperto da dentro l'aria, una sorta di rigore in movimento, ha calciato fuori strozzando la conclusione, quindi l'Inter riesce comunque a creare tanto di Marco Murato poco prima di uscire da Giasi, o Giasi, come si dice, e quindi devo dire che è stata comunque un'Inter molto positiva, era una partita che, adesso possiamo dirlo tranquillamente, io temevo, temevo perché sapevo come se la sarebbe venuta a giocare l'Empoli, una squadra che ha identità, una squadra che non ti regala, ecco, l'Empoli non è una squadra che ti regala, e quindi tutto quello che devi prendertelo, devi andartelo a conquistare, e devo dire però che la partenza mi ha subito tranquillizzato, anche se poi il risultato è rimasto in bilico di fatto fino all'80-81, quando Sanchez è insaccato da pochi passi, ma già era qualche minuto che si erano allargate le maglie dei Toscani fatalmente per andare a cercare il gol del pareggio, anche giustamente, cioè direi in maniera del tutto logica. Non commenterò l'arbitraggio di Dionisi, non mi è piaciuto per niente, ma non lo commenterò, non ci sono stati errori clamorosi, rigori, non c'è stato nulla di clamorosi, proprio la conduzione gara, però per una vezzanese parlare dell'Aquilano, poi dice subito, eh grazie, il derby, no, quindi non ne parlo, non ne parlo, peraltro in settimana, giovedì, avezzano l'Aquila 0-1, quindi qui io non sono un particolare sostenitore a canino, squadra di club in Italia è una, e non mi è piaciuto bene, diciamo così, non mi è piaciuto per niente, non mi è piaciuto per niente. Oh, e adesso la classifica si staglia in codesta maniera, in cotal guisa, Inter giocate 30, punti 79, Milan giocate 30, punti 65, differenza reti Inter più 59, differenza Milan più 23, sportiveggiante, terzo posto Juventus con 59 punti, più 20 differenza reti a 20 punti dall'Inter, il Bologna ha vinto, è andata a meno 2 dalla Juve, invece la Roma, mezzo passo falso, a Lecce 0-0 contro Lecce, devo dire che se è meritato il punto, l'Atalanta partita in meno con la Fiorentina da recuperare, 50 potenzialmente a 53 a meno 6 dalla Juventus, vi ricordo che la Juve deve giocare sia a Bologna, sia a Roma, così, tanto bene, e deve ancora pure lo scontro col Milan in casa. Inter ha più 14 sui cugini del Milan, ha 8 giornate dalla fine, i conti sono presto fatti, se l'Inter dovesse vincere le prossime 3, diventerebbe campione d'Italia. se la matematica non è un'opinione, visto che ormai si è opinionato tutto. Nessun pesce caprile! Un saluto.